Antonio Sepe presenta la sfida in trasferta contro la Casertana. Che partita ti aspetti Antonio? Loro sono una squadra forte, però noi questa settimana stiamo lavorando bene, quindi veniamo anche da una bella vittoria giocando bene, quindi penso che ce la giochiamo alla pari. L'Akragas ha preparato questa partita con grande professionalità e concentrazione? Sì, come sempre, cerchiamo di allenarci a mille, tutta la settimana abbiamo fatto un bel lavoro, quindi ci aspettiamo di portare i tre punti a casa. L'Akragas come sta fisicamente e in crescita? Sì, fisicamente è benissimo, continuiamo a crescere perché abbiamo fatto qualche acquisto nuovo quest'anno e quindi la squadra ancora deve assimilare i movimenti, le cose che chiede il mister, però siamo sulla buona strada. Tu come stai fisicamente? Hai recuperato la botta al ginocchio? Sì, è stata una brutta botta, però per fortuna sto bene, ho recuperato bene.